Buongiorno, oggi vediamo una soluzione vicino al centro di Cerro Maggiore. All'ingresso abbiamo una porta blindata. Il primo locale che vediamo, sulla destra, è il soggiorno. Per quanto riguarda l'iscaldamento è contabilizzato, quindi c'è una caldaia per tutto il condominio, i termosifoni sono in ghisa, sono già stati installate sia le termovalvole che il contacalorie, quindi si può regolare la temperatura e si paga in base a quello che si consuma. Per quanto riguarda gli infissi, invece, sono già con il doppio vetro. È una casa molto luminosa, esposta ad est, quindi il sole entra principalmente la mattina. Il secondo locale che vediamo è la cucina. Nella cucina c'è la possibilità di accedere a un terrazzo abbastanza profondo che permette di mettere fuori un tavolo e mangiare fuori. Dopodiché vediamo il bagno, dove c'è il posto per la lavatrice, il lavandino, i sanitari sono appoggiati a terra ed è presente la vasca. Alla fine del corridoio presento un ripostiglio. Infine abbiamo la camera matrimoniale. Siamo proprio vicini al centro di Ciarro Maggiore, infatti tutti i servizi di prima necessità sono raggiungibili a piedi.